La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla della manovra e delle prossime mosse del Governo all'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia-Roma. La legge di bilancio con risorse limitate e la vera sfida spiega il Premier, sottolineando che l'esecutivo punta ad aiutare le famiglie, i redditi bassi e a garantire risorse stabili alla sanità. Sarà l'anno delle grandi riforme e del Piano Mattei, aggiunge. Poi nel suo libro intervista promette la riforma costituzionale e si farà con o senza l'appoggio delle opposizioni. Noi siamo al Governo della Nazione e per noi fare gli interessi dell'Italia è prioritario. Sono certa che i nostri alleati di Governo siano consapevoli del fatto che il peso che tutti insieme abbiamo sulle spalle è talmente grave da non consentirci di sprecare energie. Tutto quello che abbiamo da dare lo dobbiamo dare agli italiani. Il merito alla tassazione degli extra profitti delle banche ha dichiarato. Hanno avuto da ridire persino su questo, sapete perché? Perché loro non hanno avuto il nostro stesso coraggio. Difendo e difenderò quel provvedimento che non ha un intento punitivo. È una norma che vi invito a difendere nelle finalità del corso della conversione sul decreto legge. Grazie. 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 Grazie a tutti